Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Siglia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Bobby Kent è nato il 12 maggio del 1973. All'inizio della nostra storia, a vent'anni vive a Hollywood, in Florida. I genitori Fred e Farah Kayam sono emigrati negli Stati Uniti dall'Iran prima della sua nascita. Giunti negli Stati Uniti, decisero di cambiare il loro cognome da Kayam a Kent. Bobby, che è nato e cresciuto negli Stati Uniti, non ha dovuto affrontare le stesse difficoltà e lotte, a cui invece i suoi genitori hanno dovuto far fronte quando erano ancora in patria. Il ragazzo ha anche una sorella di nome Laila. Una volta arrivato negli Stati Uniti, il padre inizia a cercare lavoro e alla fine ne trova uno come agente di cambio. È bravo in quello che fa e ha molto successo. Quindi Bobby, che è cresciuto almeno all'inizio in condizioni di ristrettezza economica, ad un certo punto si ritrova a vivere una vita da privilegiato. La famiglia si impegna molto per condurre una vita migliore e guadagnare molti soldi. I genitori raggiungono il loro obiettivo e vizzano il figlio più che possono. Non vogliono che gli manchi niente e non vadano a spese quando devono accontentare i desideri del ragazzo. Bobby non è il migliore studente, questo sì, ma va bene a scuola. Frequenta la South Broward High School, è attivo, motivato e ha obiettivi che si è imposto di raggiungere. Viene descritto come un ragazzo molto popolare, muscoloso, attraente ed estroverso. Gli adulti attorno a lui lo descrivono come un giovane molto affascinante e educato. Poi però c'è la versione dei suoi amici. Lo descrivono come un ragazzo crudele, cattivo e prepotente. Il migliore amico di Bobby si chiama Marty Puccio, ha 21 anni ed è italo-americano. I due vivono nella stessa zona, sono cresciuti insieme e si conoscono dalla terza elementare. Sviluppano infatti una forte amicizia e si frequenteranno per anni. Però crescendo questa amicizia diventa particolarmente tossica. Bobby infatti inizia ad essere sempre più prepotente con Marty. Lo picchia, lo umilia. I genitori di Marty ricordano che quando il ragazzo tornava a casa dopo aver passato del tempo con Bobby, era sempre pieno di lividi, a volte aveva anche delle ferite sanguinanti. I genitori credono che questo tipo di comportamento, questa amicizia, sia basata sul maltrattamento e dunque incoraggiano il figlio a interrompere i contatti con Bobby o almeno a limitarli. Ma a parte dare questi consigli a Marty, non intraprendono ulteriori azioni e non denunciano il fatto che Bobby faccia del male al figlio, molto spesso e in modo visibile. Marty e Bobby sono legati da una relazione di amore e odio e purtroppo questa relazione continua durante la loro adolescenza. Ad un certo punto però Bobby diventa così tanto aggressivo che Marty va dai suoi genitori e li implora di trasferirsi lontano da Hollywood. La madre e il padre però rifiutano. Chiedono invece al figlio se ha voglia di passare un periodo con dei parenti a New York. In effetti Marty accetta e va a New York, ma quando torna i rapporti con Bobby tornano esattamente come prima. Sembra quasi che Marty non riesca a staccarsi da Bobby e chiaramente a causa di questa situazione il ragazzo inizia a provare rancore e odio nei confronti del suo amico. Anche perché Bobby continua a picchiarlo e a bullizzarlo. Bobby, tra le altre cose, possiede un Doberman. E questo cane è molto aggressivo con Marty. Il cane spesso lo attacca e Marty ha paura di quell'animale e non vuole averlo intorno quando è con Bobby. Ma quest'ultimo non è affatto d'accordo, se ne frega proprio e ogni volta che sono insieme chiama il cane che si affretta a raggiungerlo. Il cane morde Marty sulle braccia, sulle gambe, sull'addome e mentre lo fa, il suo padrone resta lì a guardare. Bobby ride a crepapelle mentre il suo cane attacca quello che dovrebbe essere il suo migliore amico, senza motivo. Proprio durante l'adolescenza Marty e Bobby si interessano al bodybuilding e dunque iniziano a trascorrere la maggior parte del tempo in palestra. I ragazzi, purtroppo, ahimè, iniziano ad assumere degli s*****di a n*****di e questo porta Bobby a diventare ancora più aggressivo. A questo punto sia i genitori di Bobby che i genitori di Marty non approvano che i due si frequentino, ma per ragioni diverse. I genitori di Marty vogliono che i due smettano di vedersi proprio perché Bobby fa sempre male al figlio, lo attacca, lo bullizza, mentre i genitori di Bobby gli ripetono che Marty ha una cattiva influenza su di lui. Questo perché Marty ha smesso di frequentare la scuola superiore al penultimo anno. Quando Bobby termina il liceo si diletta a fare il regista con l'attrezzatura di suo padre. La sottocultura gay è all'apice della sua popolarità, quindi al ragazzo viene la splendida idea di girare e vendere video per adulti. Bobby, quindi, riesce a trovare degli uomini che si prestano a farsi filmare mentre si provoca un c***o da soli. Questi primi filmini però non sono di grande qualità e il ragazzo si rende conto di doversi applicare ed esercitare di più per riuscire a registrare video migliori. Il passo successivo è quello di provare a registrare dei veri e propri filmati per poi cercare di venderli ad alcuni negozi locali. Mentre frequentano la palestra, Bobby e Marty conoscono un uomo di 40 anni. È gay e sembra chi abbia provato a flirtare con Bobby, chi ha rifiutato le sue avance. Il ragazzo però capisce che questa persona potrebbe essergli utile per la sua attività di regista. Marty e Bobby non prendono mai parte a questi filmati per adulti ma convincono questo uomo di 40 anni a partecipare dicendogli che sarebbe diventato una star. Secondo gli amici, i due giovani sembravano davvero orgogliosi del primo video che avevano creato e avevano in programma di farne molti altri. Fortunatamente però l'uomo che ha recitato in questo primo video avendo visto il risultato davvero mediocre si rifiuta di recitare e partecipare ad altre riprese. E questo non va affatto bene per Bobby. Quindi sia Bobby che Marty lo picchiano. Marty è sicuramente una vittima degli accusi di Bobby, questo è certo, ma è tutt'altro che innocente. I due giovani in effetti sembrano tirare fuori il peggio l'uno dall'altro ma sono inseparabili. Forse Marty, stufo di sentirsi una vittima, è felice quando Bobby trova un altro uomo su cui sfogare le sue cattiverie. Bobby porta avanti il suo piano e cerca di promuovere questo film intitolato Ragazzi rudi a tutti i negozi della zona. Alla fine nessuno è interessato a questi filmati principalmente perché le riprese sono davvero pessime così come la qualità dell'audio. Inoltre, come dire, c'è un'evidente mancanza di attività intima. Nei filmati è presente solo questo uomo di 40 anni che balla senza vestiti e si diverte con dei giocatori intimi. Insomma, a nessuno interessano questi filmati. Dunque, l'avventura dei due amici nella produzione di filmati a luci grosse non va a buon fine. Ma Bobby non ha intenzione di abbandonare del tutto questa attività. Bobby e Marty, infatti, che fanno? Si recano in un famoso bar gay della zona. In quel locale ci sono parecchi ballerini maschi che si spogliano per guadagnare dei soldi. Bobby convince Marty, che è molto alto e muscoloso, a diventare uno spogliarellista. Avrebbe guadagnato dei soldi che poi si sarebbero divisi. Ad un certo punto, però, Marty questa cosa non la vuole più fare e non vuole fare lo giocatorellista e cerca di smettere. Ma Bobby glielo impedisce. Come? Lo ricatta. Infatti, quando Marty si esibisce, Bobby lo riprende. Sempre. Dunque, lo minaccia a dimostrare a tutti quei filmati dicendo che Marty è gay. Cosa non vera, visto che in questo periodo il giovane è fidanzato con una ragazza di nome Lisa. Però Marty è terrorizzato, non vuole correre il rischio che Bobby vada in giro a dire queste cose e quindi continua a fare lo spazio in dei club gay per poi dividere con Bobby i suoi guadagni. Ma, come già detto in precedenza, non tutti vedono Bobby come lo vede Marty. Come detto, è popolare. Molte persone sono convinte che Bobby sia un ragazzo attraente, carismatico e brillante. Dopo essersi diplomato al liceo, oltre a dilettarsi nel girare video per adulti, Bobby si iscrive al community college. Ha già in mente cosa vuole fare del suo futuro, ha spirito imprenditoriale e vuole avviare un'attività di autoradio con suo padre. Marty, il suo tempo libero, lo spende quasi interamente con Bobby. quando non è con lui, sta con la sua ragazza, di cui vi ho già accennato, si chiama Lisa Connelly. Lisa, come è facile intuire, odia profondamente Bobby e sente che ha una terribile influenza su Marty. Sa quanto Bobby sia violento nei confronti del suo ragazzo e non fa che ripetere costantemente al giovane che deve allontanarsi da lui. Lisa, inoltre, è infastidita dalla quantità di tempo che i due ragazzi trascorrono insieme. Insomma, sente che Bobby le sta portando via il ragazzo perché Marty passa più tempo con lui che con lei. La ragazza, in effetti, è alquanto ossessionata da Marty. Ecco perché presenta a Bobby una sua amica, Alice Willis, detta Ali. Anche lei è 18enne. Nonostante Alice sia una ragazzina appena maggiorenne, è già stata sposata e ha messo al mondo un figlio di cui si prendono cura i suoi genitori. In realtà, la relazione tra Bobby e Ali dura davvero poco. Questo perché Ali afferma che il ragazzo è violento anche fisicamente nei suoi confronti. Ali racconta che Bobby l'ha aggredita intimamente, l'ha obbligata a guardare i video girati da lui durante i loro momenti intimi ed è arrivato a minacciare la sua vita e quella di suo figlio. Quindi i due si lasciano. È a questo punto che il gruppo di amici inizia a parlare di un argomento in particolare. Mettere fine al comportamento di Bobby. E inizialmente questo discorso lo fanno principalmente Ali e Lisa. E infatti la persona che organizza il piano è Lisa, la fidanzata di Marty, in quanto è rimasta incinta e vuole che lui tagli definitivamente ogni legame con Bobby in modo permanente. Lisa prova un odio così profondo che neanche riesce a spiegarlo. Ma non è l'unica. Anche Ali è molto arrabbiata con il suo ex ragazzo perché Bobby ha minacciato di ucciderla e di uccidere il suo figlio se non avesse accettato di ricominciare a frequentarlo. E Ali è convinta che Bobby possa fare veramente quanto minacciato nel caso gli si presenti l'opportunità. Quindi, che succede? Ali e Lisa scogitano un piano per fare in modo che Bobby smetta di fare del male a chi gli sta attorno. Ma come possono fare per renderlo inoffensivo? Beh, a quanto pare, l'omicidio per loro è una buona idea. Anzi, un'ottima idea. Così, Ali attira Bobby in una zona isolata mentre Lisa si nasconde nelle vicinanze e ha con sé la pistola di sua madre. Il piano prevede che a un certo punto Ali si allontani e Lisa si faccia avanti per sparargli e ucciderlo. Tuttavia, alla fine, Lisa non riesce ad arrivare fino in fondo. Non ha il coraggio. Il giorno seguente, le due ragazze si ritrovano e si rendono conto che hanno bisogno dell'aiuto di più persone per portare a termine questo piano. In questo periodo, Ali sta uscendo con un nuovo ragazzo, il 21enne Donald Semnek. Donald non conosce personalmente Bobby ma la sua nuova ragazza gli ha raccontato tutto parlandogli degli abusi fisici e mentali a cui l'ha sottoposta fino all'aggressione intima. Donald vuole prendersi cura di Ali e quindi è disposto ad aiutarla a eliminare Bobby. Poi c'è Lisa che oltre a Marty che già partecipa al piano in qualche modo riesce anche a convincere due suoi cugini a unirsi al gruppo. Si tratta del ventenne Derek Zvirko e della diciannovenne Heather Swalers. Anche in questo caso né Derek né Heather conoscono così bene Bobby ma Lisa racconta loro quanto è terribile questo ragazzo e quanto male ha fatto a lei e al suo fidanzato Marty. L'ultima persona a unirsi al piano è il ventunenne Derek Kaufman. Derek è un ragazzo molto muscoloso che va in giro a dire a chiunque che è un sicario della mafia. Ovviamente queste sono affermazioni che non trovano alcun riscontro ha inventato questa storiella per incutere timore agli altri. È assurdo se ci pensate. Il gruppo è formato da sette persone molte delle quali neanche conoscono la vittima designata ma accettano di andare fino in fondo pronti a commettere un omicidio. La sera del 13 luglio i ragazzi si incontrano da Pizza Hut e parlano del piano da mettere in atto il giorno seguente. Il 14 luglio 1993 è il giorno prestabilito per portare a termine il loro progetto. Derek raccomanda di uccidere Bobby in una specifica zona remota sostenendo di aver già eliminato altre persone per conto della mafia proprio in quell'area. Ali ha il compito di attirare Bobby sul posto con la promessa di tornare di nuovo insieme. La ragazza inoltre ha da poco acquistato una macchina nuova e promette al ragazzo che se fosse andato con lei avrebbe potuto provarla. L'idea è di andare a prendere Bobby a casa sua e portarlo in una zona remota nella contia occidentale di Broward. Marty indossa un trench e ha un coltello da sub legato alla gamba. Decide anche di portare un tubo di metallo per ogni evenienza. Anche il fidanzato di Ali Donald decide di portare un coltello mentre Derek Kaufman porta con sé una mazza da baseball blu e argento. Inoltre Derek si nasconde nel bagagliaio del veicolo in modo che Bobby non abbia la più pallida idea che sia lì con loro. Quindi quella sera il gruppo va a prendere Bobby intorno alle 19 e quest'ultimo è entusiasta all'idea di incontrare di nuovo Ali ma soprattutto di guidare la sua nuova macchina. Arrivati in quella zona remota dove è presente una cava di roccia Ali prende Bobby per mano e lo porta vicino ad un canale inizia a parlargli degli allegatori e lo distrae non è folle gli allegatori ci sono davvero in Florida quindi insomma immagino che il discorso vertesse sul fatto che in quel canale probabilmente c'erano gli allegatori i due poi iniziano a flirtare un po' e Bobby personalmente pensa che stanno per avere un rapporto intimo ma il ragazzo di Ali si sta nascondendo dietro di loro con il coltello Donald pugnala Bobby alla nuca dopodiché anche il resto del gruppo si unisce all'aggressione Bobby si volta e riesce a vedere il suo migliore amico Marty con un coltello in mano prova a implorarlo ovviamente non vuole morire e chiede a Marty di risparmiarlo di non ucciderlo Marty però ricorda ogni singola cattiveria che Bobby gli ha fatto quindi lo pugnala senza pietà allo stomaco Bobby muore per le molteplici coltellate che ha ricevuto viene pugnalato due volte alla nuca ha coltellato tre volte alla spalla destra e il suo addome è completamente squarciato ha ferite così profonde che il suo intestino sporge all'esterno Bobby tra l'altro ha cercato di proteggersi e in questo modo è stato ferito due volte una al braccio destro e la seconda alla mano sinistra il suo collo viene tagliato per due volte in profondità lo stesso vale per le corde vocali così che non possa parlare né tantomeno urlare viene inoltre pugnalato al cuore ai polmoni e tra le costole per dare il colpo di grazia a Bobby Derek Kaufman prende la mazza da baseball che aveva portato con sé e la scaglia sulla testa del ragazzo che giace a terra quindi Marty e Derek raccolgono il corpo senza vita di Bobby e lo gettano nel canale sperando che gli alligatori lo mangino facendo sparire il cadavere lanciano tutte le loro armi nel canale e poi si dirigono a Hollywood Beach accordandosi per raccontare una sola versione dei fatti sono stati in giro tutta la notte insieme naturalmente quella sera Bobby non torna a casa i genitori quindi si preoccupano e si chiedono dove sia la prima persona che chiamano è il suo migliore amico Marty che però dice loro di non avere idea di dove si trovi racconta che Bobby era uscito con una ragazza che lui non conosceva e quella sera non l'aveva visto il punto è che quei ragazzi non sanno tenere la bocca chiusa quindi ben presto iniziano a parlare tra di loro di come hanno portato a termine l'omicidio in effetti un segreto del genere è difficile da mantenere soprattutto se sono implicate sette persone che non sono poche i genitori di Bobby hanno denunciato la sua scomparsa quando quella sera non è tornato a casa e ora la polizia sta indagando facendo parecchie domande in giro i sette colpevoli iniziano quindi a sentirsi sotto pressione sanno che prima o poi verranno scoperti soprattutto perché non hanno tenuto la bocca chiusa la ragazza di Marty che è incinta è anche la prima a parlare si confida con la madre e le dice che anche lei c'entra qualcosa con la sparizione di Bobby l'ha ucciso insieme ad altre sei persone perché Bobby le aveva fatto violenza intima cosa che poi tra l'altro si rivelerà falsa sua madre dunque chiama sua sorella che è la madre di Derek Zvirko Lisa aveva convinto suo cugino Derek a partecipare e anche lui confessa ben presto quello che avevano fatto tutti insieme entrambi vanno al dipartimento di polizia e raccontano tutto alle autorità Derek afferma di non aver avuto alcun ruolo nell'omicidio ma ammette di aver aiutato a portare il corpo di Bobby verso la zona del canale per gettarlo dentro Lisa racconta la polizia del piano ma non dimostra alcun rimorso afferma che era terrorizzata da Bobby e l'unico modo per fermarlo era toglierlo di mezzo ucciderlo infine Derek dopo un lungo interrogatorio mostra alla polizia dove si trova il corpo di Bobby a causa dell'estrema brutalità dell'omicidio la polizia afferma che sembrava che Bobby fosse stato fatto a pezzi da degli animali ma in realtà gli alligatori non erano arrivati e nessun animale aveva mangiato il corpo tutti i segni e i colpi sono frutto di rabbia violenza e cattiveria umana Bobby viene ritrovato con addosso una maglietta bianca e dei jeans ed è chiaro che ha subito una forte perdita di sangue la scena del crimine è un'area di circa 10 metri il sangue è sparso dappertutto Bobby è rimasto lì in quel canale per 4 giorni il processo di decomposizione è già cominciato e il suo corpo è in pessime condizioni la polizia riesce a confermare la sua identità grazie ai documenti nel suo portafoglio trovato ancora dentro la tasca dei pantaloni è morto per le coltellate al cuore al collo e all'addome inoltre ha anche un trauma cranico perché è stato colpito con un corpo contundente la polizia grazie alle confessioni dei colpevoli scopre che sono state utilizzate almeno due armi per il delitto conferma della presenza di più aggressori Bobby era un ragazzo particolarmente massiccio e fisicato quindi è improbabile che Lisa e Derek l'abbiano ucciso da soli gli investigatori quindi mettono sotto torchio i due ragazzi per ottenere i nomi delle restanti persone coinvolte Lisa e Derek stremati parlano fanno il nome dei migliori amico di Bobby Marty della sua ex ragazza Alice del fidanzato di Alice Donald Semnek ci sono poi Derek Kaufman e Heather Swalers che non hanno neanche mai incontrato Bobby e anche il suo più caro amico Marty non ha mostrato alcun rimorso per quello che ha fatto Bobby i sette giovani assassini vengono tutti processati separatamente questo perché tutti hanno partecipato all'omicidio ma con ruoli diversi il migliore amico di infanzia di Bobby Marty quello che era stato vittima di bullismo aggredito continuamente durante molti anni di amicizia è stato accusato di omicidio di primo grado e associazione a delinquere in alcuni stati l'omicidio di primo grado è il lasciapassare per una condanna a morte inizialmente infatti Marty viene condannato alla pena capitale tuttavia la sentenza è stata ribaltata in appello e commutata in ergastolo con possibilità di parola condizionale dopo 25 anni ciò significa che un giorno Marty potrebbe uscire di prigione ma per ora è dietro le sbarre la ragazza di Marty Lisa è stata inizialmente condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale ma la seconda è stata commutata in appello a 22 anni è stata rilasciata nel 2004 dopo aver scontato solo 9 anni di prigione attualmente vive in Pennsylvania con i suoi due figli l'ex fidanzata di Bobby Alice è stata accusata di omicidio di secondo grado e condannata a 40 anni dietro le sbarre tuttavia la sua condanna è stata ridotta in appello a 17 anni è stata rilasciata dal carcere dopo aver scontato 6 anni e da allora è stata accusata di numerosi altri reati minori tra cui furto e violazione della libertà vigilata Alice ora è sposata ha dei figli e vive ancora in Florida il fidanzato di Alice al momento dell'omicidio Donald Semnek è stato condannato all'ergastolo più una condanna a 15 anni per cospirazione è ancora dietro le sbarre il cugino di Lisa Derek Zvirko si è dichiarato colpevole di omicidio di secondo grado ha testimoniato in cambio di un patteggiamento quindi ha scontato solo 6 anni è libero a quanto pare è un padre single e attualmente vive in Missouri il presunto sicario della mafia Derek Kaufman è stato condannato all'ergastolo senza condizionale con l'aggiunta di una condanna a 30 anni per cospirazione è ancora dietro le sbarre e sembra non essere proprio un detenuto modello ha infatti commesso ben 18 infrazioni in carcere incluso l'uso di sostanze e la disobbedienza agli ordini infine Heather Swalers la fa franca con una sentenza molto lieve ebbene sì perché a quanto pare non ha avuto un ruolo importante nell'omicidio o meglio non ha avuto proprio nessun ruolo se non essere lì presente si è dunque dichiarata colpevole di omicidio di secondo grado ed è stata rilasciata dopo 5 anni ora vive in Georgia con i suoi figli quindi 3 degli assassini sono ancora dietro le sbarre ossia coloro che hanno accoltellato e colpito Bobby alla testa con la mazza da baseball gli altri sono ora liberi e sembra siano andati avanti con le loro vite si sono sposati hanno avuto figli ma in generale hanno mantenuto un basso profilo insomma i genitori di Bobby non sono affatto contenti della condanna volevano davvero vedere Marty pagare con la sua vita anche la sorella di Bobby Laila non è felice infatti ha affermato mi disgusta che abbiano la libertà dopo aver ucciso qualcuno sono persone orribili e dovrebbero vergognarsi di quello che hanno fatto non meritano nemmeno di essere vivi sembrano esserci sentimenti contrastanti circa il modo in cui le persone percepiscono questo caso alcuni in un certo senso giustificano Marty per ciò che ha dovuto sopportare in tutti gli anni di amicizia con Bobby non solo il bullismo ma anche tutto il resto Marty è stato manipolato ricattato e aggredito fisicamente da Bobby per quasi tutta la sua vita ma è davvero questo il movente dell'omicidio? beh probabilmente sì ma non possiamo e non dobbiamo scordarci che al momento dell'omicidio Marty era un adulto e se avesse voluto allontanarsi da Bobby avrebbe potuto farlo e avrebbe avuto tutta la ragione del mondo ci sono anche voci che sostengono il contrario Marty in realtà era un prepotente tanto quanto Bobby solo che quest'ultimo era più forte ma queste sono solo illazioni e solo Marty sa quale sia la verità inoltre ci tengo a sottolineare nuovamente questa cosa alcune delle persone coinvolte non conoscevano nemmeno la vittima non avevano avuto mai alcun rapporto con Bobby avevano solo sentito le stesse voci su quanto fosse terribile violento e prepotente tutti in ogni caso sono stati ben felici di partecipare a questo massacro sembra però che il cugino di Lisa Derek abbia affermato in seguito che non pensava che sarebbero arrivati davvero fino in fondo insomma quando parlavano e ne discutevano credeva che stessero solo dicendo stupidate la cosa più assurda è che non avevano mai discusso di cosa sarebbe successo se fossero stati catturati o se fossero andati in prigione a Derek quelle sembravano solo chiacchiere insomma si stavano sfogando e non avrebbero mai ucciso per davvero Bobby ma il punto è che Derek comunque non ha cercato di fermare nessuno una volta che il piano è stato messo in moto Bobby ha implorato di aver salva la vita ma è stato ucciso in un modo incredibilmente violento l'attacco è durato circa un'ora quindi è stata una morte lenta e dolorosa e Derek dopo tutta quella violenza lo ha gettato nel canale sperando che gli alligatori mangiassero il corpo quindi la mia domanda è pensate che questo omicidio sia giustificabile perché Bobby era un bullo no? perché alcuni sostengono questa tesi oppure la situazione poteva essere risolta in altro modo come ad esempio smettendo di frequentarlo ovviamente credo che l'omicidio non vada mai e poi mai giustificato sarebbe davvero bastato escludere Bobby smettere di cercarlo e di frequentarlo ma soprattutto Bobby è stato ucciso in quanto bullo oppure c'era sotto qualcosa d'altro non so se il reale immovente fosse proprio quello di uccidere Bobby in quanto persona prepotente e che abusava degli altri mi lascia davvero perplessa il fatto che alcuni degli assassini neanche lo conoscevano cioè nel senso si sono semplicemente fidati delle affermazioni fatte da altri domanda e se quelle affermazioni non fossero state reali? detto questo ragazzi ho finito di parlare di questo caso fatemi sapere se lo conoscevate credo che esista anche un film che però io non ho visto che si chiama Bully lo trovate se non mi sbaglio con i sottotitoli in italiano in dei siti un po' malandrini ma io questo caso non lo conoscevo non ne avevo idea e quindi quando l'ho approcciato mi sono alquanto stupita ve l'ho anche ripetuto più volte del fatto che alcune persone abbiano preso parte a un atto così scelerato come un omicidio senza conoscere la vittima non ci avevano neanche mai scambiato una parola e mi ha lasciato alquanto scioccata questa cosa sono rimasta interdetta non lo so fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo caso come al solito ci becchiamo nei commenti qui sotto io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti